Ha innescato le inevitabili polemiche e l'incontro dell'altro giorno tra l'assessore Camolei e i gestori dei giochi d'azzardo. In particolare è contestata la possibile apertura sugli orari delle sale slot, che dal primo febbraio hanno subito il giro di vite dell'ordinanza del sindaco Giovanni Manildo, che ha stabilito in otto ore inderogabili gli spazi di utilizzo al pubblico di macchinette slot e videolotteri. Una contraddizione per l'ex consigliere comunale e ora regionale Riccardo Barbisan, che per primo ha ingaggiato la battaglia contro il gioco d'azzardo che porta alla dipendenza. Spero sia una delle tante buttade dell'assessore Camolei, ne ha dette tante e ne ha fatte poche, spero che anche in questo caso continui così. È poco conta che gli imprenditori abbiano proposto all'assessore dei corsi per la gestione della ludopatia ai gestori dei locali, per ottenere un allargamento degli orari di apertura, motivando questo bisogno con i costi di gestione. Come si può conciliare l'attività imprenditoriale con il gioco d'azzardo? Si può conciliare dando delle regole e facendo in modo che questo gioco non sia indiscriminato e incontrollato. Bisogna tutelare delle fasce di età dei soggetti più deboli. Per questo molti comuni si stanno adottando di alcune delibere. Spero che non sia il comune di Treviso il primo a rompere questa buona pratica. E mentre Spresiano limita anche l'azzardo di Stato, ovvero la vendita dei gratta e vinci, la Regione sta portando al traguardo una legge specifica su macchinette e videopoker. Io ho fatto un progetto di legge che è già stato illustrato in quinta commissione e appena non sarà varata la riforma della sanità si continuerà a parlarne. Spero che sia in aula entro quest'anno.